Io sono, mio nome è Michael Schmelzer e io sono il proprietario enologo e agronomo di Monte Bernardi a Panzano e Chianti. La filosofia più tradizionale è che quando una lavora in altre zone si comincia a vedere che quando si fa vini moderni comincia ad essere più simili ai vini. Invece se torniamo indietro e si usa più le vecchie pratici si comincia ad esprimere l'assess e la bellezza della nostra zona e questa è la cosa che la gente comincia a capire quando vedono le differenze non un vino che può essere prodotto in qualsiasi parte del mondo. Perché dobbiamo assaggiare il nostro Retromarche a Chianti Classico che è un simbolo di nostra azienda? Perché è un vino che esprime tutta la bellezza di nostra regione e un bel esempio di tornare a tradition di zona con eleganza, freschezza e profumi che si trova solo in le zone di Chianti Classico.